C'è questa idea di base, soprattutto nel copywriting, che vede il copywriter italiano, soprattutto, come la persona che prende e fa copia e incolla di quello che impara dal mercato americano. Diciamo che la cosa è un po' diversa. Analizziamola un attimo insieme. Giustissimo pensare che bisogna studiare dal mercato americano perché sostanzialmente è da lì che tutti prendono le proprie idee. Sono convinto che nessuno in Italia inventa la ruota, nessuno fa niente di nuovo, me compreso. Il punto è che pochi riescono a comprendere un aspetto fondamentale che lo diventa ancora di più quando parliamo di copywriting. Dobbiamo filtrare ciò che impariamo, dal mercato americano a quello italiano. Questo perché? Perché il pubblico americano è completamente diverso da quello italiano. In termini di spesa, in termini di mentalità, in tutto. Quindi ricordiamoci, filtriamo le informazioni dal mercato americano a quello italiano.